Il primo pensiero va intanto a un nostro amico carissimo che è sempre stato con noi e purtroppo non c'è più. E' sempre stato in questi tornei ma ci sarà sempre anche se non c'è più. Si chiama Marco Rodico e voglio fare un altro. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso.